Per rigenerazione urbana si intende il concetto oggi di rigenerare, evidentemente, perché è all'interno del sistema della sostenibilità, all'interno dell'economia circolare, all'interno di tutta una serie di esigenze in cui è necessario oggi ripristinare cose, certo si può anche ricostruire, ma quello che è fondamentale è riconvertire, per cui questo diventa anche se uno vuole una metafora, per cui abbiamo parlato della necessità di rigenerare noi stessi, rigenerare noi stessi vuol dire rienterpretarci, reinventarci, vuol dire evidentemente poi prendersi cura delle cose. Il design della cura, questo, la parola design la usiamo tante volte senza comprendere fino in fondo quello che di fatto vuol dire, la parola design viene dall'italiano disegno, che viene dal latino designa, che vuol dire forma, segno, disegnare o disegnare, vuol dire dar forma alle cose, progettare, che è la cultura del progetto. Perciò questo design della cura deve diventare veramente un progetto e di questo abbiamo parlato, un nuovo progetto di prendersi cura di, prendersi cura prima di tutto di noi stessi, ma poi prenderci cura degli altri, prenderci cura del pianeta. Adesso questa è una sintesi, se vogliamo, molto densa, ma è l'ultimo e forte significato di ciò che abbiamo discusso. Abbiamo parlato di memoria, dell'importanza della memoria, abbiamo parlato dell'importanza della parola, di essere attenti alla parola, di capire profondamente il senso delle parole, per cui ricercare e rigenerare anche dentro noi stessi il significato, il segno, il senso della parola. Etimologia non vuol dire solamente radici come normalmente si crede, ma la parola, l'etimo di etimo è molto più profondo e vuol dire il vero. Perciò cercare e ricostruire l'etimologia di una parola vuol dire ricostruire il vero di questa parola, che è il primo significato, il primo senso che l'uomo ha dato a quel suono che voleva dire, che voleva essere un verbo, un sostantivo, un aggettivo e poi siccome questo suono l'uomo lo passa ad altri uomini e ad altri ancora, esistono degli slittamenti di senso. Bene, tutti questi sensi, tutti questi vari significati sono il vero.